E che non ha Oh un piramidead Un piramidead Ah questo invito è mio Intanto non provo a rubarmi Vabbè aspetto di vedere Come fa gli attacchi E poi decido No Ok Basta skill check Lo sto facendo con Con la mano del mouse Colpendo il La tastiera Raga posso dire Che è l'invito Di non far sentire Niente troppo broken Che senso ha In che senso Con la mano del mouse Il mouse ha una Con la mano Che uso per il mouse Jerry Spero di non sbagliare Lo skill check Perché Perché tutti i random Che trovo Non sanno fare Il skill check Di tempest Ad acqua Perché l'MMR È un po' basso Probabilmente Devi giocare semplicemente Di più Cercare di riuscire A scappare Come serve Per aumentare l'MMR Io credo di avere L'MMR basso Perché voglio sempre Ah il nostro clan È basso È la russa Comunque È della È della live È il clan della live Tu vuoi partecipare C'è il benvenuto Non ti aspettare Che sia un clan Enorme Sa cosa La cassa Giuro Ancora non l'ho capito Spero che c'era un gen Qui Vabbè Già gli facciamo Tre gen Abbastanza fast Non ha neanche Un gancio Poverino Pasolito È il primo hit Che fa tra l'altro Io vorrei Acecarlo Dai basta Mo' lo campero Sotto un pallet Cosa è andato? Ma eccolo Signore 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 Mi scusi Signor piramideddy Che cazzo è sto rallentamento Aiuto C'ho la scopa Nel culen Signore No non c'è di furfi C'è di me Signore Signore E niente C'era con furfi ora Signore Che merda Niente c'era con furfi Ma signor piramide Ma almeno colpisca qualcosa Siamo veloci Fuck Troppo veloci Non me lo aspettavo Troppo frenetico Così il gioco Fuck Non è orato un cazzo L'accecamento Però No Mi ingabbia Bu Forse perché gli ho urlato Anche di fianco C'è da dire Sì va bene Non lo so Nessun problema E scusi Cosa stai ti baggando Io sono un po' qui in là Io ero da tutt'altra parte Ciao Gianni Buonasera caro Come stai? Dai Sono qua Ok mi ha visto Mi ha visto E mi ha perso Signore 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 Mi scusi Signore Signore Ehm Signore 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 Non mi cacca E perché c'è un giallo Che non è in regressione Dalla piramide Ah ecco perché era giallo Tu accetta Vabbè Poteva andare di M1 Tranquillamente Ma dove vai? Piramide Ciao Franco Buonasera I'm tilted I'm kinda tilted Mi ignorano i killer Io voglio essere cesato Voglio flasharli Voglio Sono qui Sono qui Perché non me lo fa riprendere? Beh Mi sei baggato? Mi sa che si Guarda come cammina Come cammina X What the fuck Come cazzo si muove In punta di piedi Cazzo proprio No mi ha tirato Il modello Il silenzio Ecco due Due anche sulle porte Anche nell'idea Come quella Minchia sta spammando A raffica Popo queste cose Dove sapere dov'è furfi Onestamente Mi sento colpire Ma non capisco da dove Il furfi O ci troveremo Il furfi Minchia Era tutt'altra parte Popo Guarda adesso Per sbaglio L'ho appendato a distanza Usato il potere Guarda che avviene qua Lo sapevo Grazie Non siamo neanche più Exposed Non mi vuole Ci stare Proprio Mi ne frega Un cazzo Mi ne frega Proprio Una ceppa Di minchia Guardalo Mi frega Mi frega Poi la ceppa Di minchia Noede Non ce l'ha Giusto Motocron Un po' di più Dai Mi sa che era Un po' più Fresh C'era anche una build Abbastanza interessante Grazie 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 a tutti.